Firenze Smart Firenze Scandici e la Strassigna con code in uscita alla Strassigna e code per un veicolo fermo tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli Val d'Arno In direzione Firenze rallentamenti tra Scandici e Firenze Scandici Su raccordo Siena-Firenze rallentamenti per lavori tra Siena-Acqua Calda e Siena-Nordo in direzione Firenze tra Firenze in Pruneta e San Casciano in Val di Pesa in entrambe le direzioni Si ricorda che fino alle 21 di questa sera è in atto uno sciopero dei treni Info sui nostri canali social ed è tutto, buon viaggio!